Ciao, benvenuta o bentornata sul mio canale. Io sono Trisha e oggi ritorno con la rubrica 10 libri per. In questo caso voglio consigliarvi 10 titoli brevi che siano adatti magari per essere portati in valigia. Si avvicina l'estate in maniera ufficiale, cominciano le prime vacanze, però ovviamente la lettura continua ad essere una compagna imprescindibile per la maggior parte di noi e quindi ritengo sia fondamentale portarsi dietro qualche libro, romanzo, saggio in generale, molto breve, molto corto, che magari non accopi particolare spazio all'interno della valigia, così possiamo portarne più di uno e che magari non pesi troppo in una borsa o in uno zaino. Quelli che vi consiglierò sono tutti i titoli al di sotto delle 200 pagine, affrontano le tematiche più varie, sono di diverso genere, ma sono alcuni dei titoli che io personalmente preferisco e che ritengo possono essere più adatti a questo periodo. Detto questo mi sbrigo immediatamente, ci tenevo soltanto a scusarmi per probabilmente il fatto che io non sia a fuoco e per questa luminosità. Non capisco cosa sia successo al telefono, onestamente, però io non mi vedo benissimo nella telecamera. Spero che sia comunque tutto a posto, me lo auguro, nel caso fatemi poi sapere nei commenti. Il primo titolo che voglio consigliarvi è Il fondamentalista e riluttante di Hamid, titolo che ho finito di leggere proprio da pochissimo e che mi è piaciuto incredibilmente. Si racconta la storia di Changes, il protagonista, e in realtà questa storia viene raccontata proprio sotto forma di una chiacchiera che lui fa ad un americano nel suo paese. Changes, infatti, è un ragazzo molto giovane che, dopo aver ottenuto eccellenti risultati scolastici, va a studiare in America, dal Pakistan si trasferisce in America per studiare a Princeton. Dopo la laurea viene anche assunto all'interno di una compagnia finanziaria particolarmente importante, proprio perché ha ottenuto questi risultati incredibili. La vita del protagonista sembra infatti procedere benissimo, sembra andare tutto per il verso giusto. Lui sente di far parte di questa realtà, incontra anche Erica, ragazza della quale si innamora, ma è appunto una giovane donna con alcuni mostri che continuano a tormentarla. E la situazione peggiora al momento della caduta delle Torri Gemelle. Questo evento sconvolgerà la vita di Erica e in particolar modo la vita del protagonista, perché ovviamente comincerà ad espandersi un razzismo molto più sistemico e sistematico nel contesto statunitense. Ovviamente Changes sente appunto che questa tendenza si sta riflettendo anche su di lui e comincia a riflettersi, ad avere conseguenze anche sul suo operato. Ora, tutta la storia viene raccontata, mentre lui però è in Pakistan e racconta appunto a questo americano questa sua storia. È un testo geopolitico, c'è una componente geopolitica molto importante. Vengono fatti molti riferimenti anche a quella che è la tradizione musicale, culinaria, poetica del Pakistan, quindi è un titolo che vi permette anche di viaggiare un po' per il mondo, perché la storia si divide tra il Pakistan e gli Stati Uniti, l'America del Sud, se non sbaglio, anche la Grecia. Quindi è un titolo che ha sicuramente un valore critico molto importante, però comunque mantiene questa componente del viaggio. È al di sotto delle 200 pagine, quindi secondo me è perfetto, anche come primo approccio all'autore. Io infatti adesso sono convinta di voler recuperare tutto. Con il secondo titolo invece ci trasferiamo in Italia e il titolo in questione è L'acci di Domenico Starnone. Anche questo appunto molto breve, io l'ho letto in una giornata praticamente, perché la scrittura di Starnone è sempre molto suggestiva, sempre molto immersiva, quindi sono proprio... i suoi sono proprio quei titoli da consumare così molto velocemente, ma che lasciano effettivamente tanto. La storia racconta di questa relazione, di questo matrimonio nofragato, perché Aldo, uno dei protagonisti, si innamora di un'altra donna. Ad un certo punto lascia Wanda con i suoi figli a Napoli e lui si trasferisce a Roma. Da qui comincia appunto tutta la spiegazione della loro storia, di come adesso effettivamente nel presente letterario, siano effettivamente tornati insieme, vivano la loro anzianità all'interno della stessa casa. Però questa apparente tranquillità e serenità invece nasconde le cicatrici di quello che è accaduto anni prima, perché ovviamente entrambi si sentono ancora legati ad un passato che è finito poi sostanzialmente. Si sentono legati alle scelte che hanno compiuto in gioventù e durante il periodo della maturità, sentono di aver commesso effettivamente qualche errore, perché per il bene della famiglia, o almeno apparentemente per questo presunto bene, sono tornati insieme. La storia è molto interessante perché poi c'è questo momento tragicomico di quando i due partono per una vacanza e ritornano dopo qualche giorno e trovano la casa completamente distrutta. Non c'è assolutamente più niente al proprio posto, però i soldi e l'oro, diciamo i gioielli, le cose più preziose, sono comunque ancora in casa e non riescono a comprendere chi possa essere effettivamente stato. Diciamo che questo plot twist finale non è così tanto stupefacente, perché secondo me si arriva alla conclusione molto facilmente, però la bellezza di questo libro non è tanto legata alla trama quanto proprio alla scrittura dell'autore, al messaggio che vuole lanciare. C'è sempre una morale non morale all'interno dei titoli di Starnone, cioè proprio una descrizione neorealista della quotidianità che permette veramente di godere dei dettagli, di queste descrizioni retrospettive, paesaggistiche talvolta, che secondo me sono perfette per l'estate. Altro titolo che devo assolutamente consigliarvi, che secondo me è perfetto non solo perché è breve, ma proprio in generale per l'estate, perché si sviluppa durante il mese di agosto è Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Il titolo segue infatti la storia di Pereira, che è un giornalista che si occupa della parte culturale del giornale Lisboa di Lisbona per l'appunto e conduce questa sua vita molto tranquilla di costante ricordo rispetto alla moglie che ha perso tempo prima. Queste giornate passate in giro col caldo, sempre a bere limonate, nonostante gli siano sconsigliate dal medico e dal nutrizionista, Pereira vive appunto queste vicende sullo sfondo di un periodo storico particolarmente importante perché è il periodo del fascismo, dell'ascesa del nazismo, della guerra civile spagnola e ovviamente la storia con la S maiuscola diventa una protagonista effettiva di questo romanzo. Decide quelle che sono le scelte dei singoli personaggi e permette anche di far fuoriuscire quella che è la loro vera natura. Pereira è il simbolo dell'astensionismo, cioè Pereira è un eroe che effettivamente non fa assolutamente nulla. La sua è un'idea ben precisa, però questa idea non riesce a portarla a termine fino in fondo, proprio perché c'è una paura sostanziale, c'è una ricerca di tranquillità che porta talvolta a dire di no e a non compiere nessun'azione per quanto la persona sia conscia che quella è la scelta più giusta. Io l'ho trovato un titolo estremamente interessante, ci sono dei punti che per me rappresentano veramente uno dei momenti più alti della letteratura. Ho amato questo titolo, ho amato questa coscienza che si divide tra il vivere e il sogno sostanzialmente, tutto il discorso introspettivo che Pereira porta avanti attraverso il rapporto con altri personaggi con i quali entra in contatto e quei momenti in cui Pereira sembra proprio aver trovato la tranquillità, ma in realtà si tratta di una serenità solo apparente. Spostandoci invece nel genere della non fiction, voglio consigliarvi un titolo veramente cortissimo che si legge in tipo un'ora, due ore, ma che è talmente tanto bello, profondo, interessante che vi verrà proprio voglia di prolungarne la lettura, perché vorrete cogliere e carpire tutti gli elementi che sembrano esservi sfuggiti. Un titolo che secondo me necessita anche di più di una lettura per poter essere compreso nella sua totalità e soprattutto per poter essere apprezzato ancora meglio. Sto parlando dei margini e il dettato di Elena Ferrante. Si tratta di un titolo all'interno del quale sono raccolte tre riflessioni che l'autrice ha scritto per quanto riguarda l'attività appunto della scrittura, l'arte dello scrivere. Ci sono diversi riferimenti a quella che è la sua formazione culturale, letteraria, narrativa, ma anche personale. Ci sono delle riflessioni di carattere anche femminista, soprattutto poi nell'ultima parte che invece è una sorta di saggio su Dante, in particolar modo sulla figura di Beatrice che viene riscoperta dall'autrice, viene interpretata in un'ottica completamente diversa. Però secondo me la parte ancora più interessante è appunto la prima, dove ci sono queste riflessioni personali in cui l'autrice spiega anche da dove nasce il concetto di smarginatura che troviamo all'interno dell'Amica Geniale, che diciamo è uno dei concetti più importanti. Concetto che ha appunto coniato proprio Elena Ferrante ed è molto interessante vedere anche quello che è tutto il processo creativo che porta un'autrice del calibro di Ferrante a formulare delle trame così interessanti, vivide, che sembrano appunto quasi delle biografie più che dei romanzi. Quindi se avete voglia di approfondire un po' l'autrice, se avete poco interesse magari nei romanzi, ma comunque cercate qualcosa di molto interessante dal punto di vista letterario, dal punto di vista anche storico e via dicendo, secondo me questo è un titolo che può risultare assolutamente perfetto. Altro titolo che voglio consigliarvi è secondo me un romanzo non adatto a chiunque perché è veramente molto particolare. Infatti dopo aver visto il mio video vi consiglio comunque di recuperare innanzitutto la mia recensione che trovate su Instagram, ve la lascio linkata in info box e poi sicuramente di leggere un po' su internet la trama perché, vi ripeto, è un titolo molto particolare. Secondo me sta a metà tra il romanzo, quindi l'invenzione letteraria e la linguistica sostanzialmente. Sto parlando di lingua madre di Maddalene Fingerle, almeno credo. Un titolo molto particolare perché, spero voi riusciate a vedere le pagine in questo caso, sono per l'appunto tutte, sembrano rotte male poi sostanzialmente. Questo è dovuto dal fatto che la casa editrice Italo Svevo appunto pubblica i romanzi in questo modo e praticamente per permettervi di gustare ancora meglio la lettura, quindi per non farvi spoiler. Le pagine sono letteralmente attaccate tra di loro, quindi per leggerlo vi consiglio di munirvi di un taglierino o di una forbice. Oltre ad esserci veramente un racconto strepitoso all'interno di questo titolo, vi ritroverete anche di fronte ad una sorta di gioco o quantomeno di esperimento letterario. La storia comunque racconta di Paolo Prescher, questo ragazzo che vive a Bolzano, quindi in un contesto bilingue praticamente, che non va assolutamente d'accordo con la madre e la sorella e solo con il padre, che però praticamente non parla più. La vita di Paolo viene sconvolta ad un certo punto da un evento e lui decide di abbandonare Bolzano e di trasferirsi in Germania e soprattutto di abbandonare l'italiano. Vuole parlare solo ed esclusivamente tedesco perché lui odia le parole sporche. Paolo Prescher ritiene che esistano delle parole pulite, che sono quelle parole che non hanno abbellimenti, non vogliono sistemare la situazione o abbellirla, ma vogliono dire esattamente ciò che si vuole intendere. E in Germania incontra poi Mira, della quale si innamora e con la quale inizierà una relazione e soprattutto scoprirà molti elementi di sé, soprattutto prenderà consapevolezza del valore della lingua anche sotto altri punti di vista. Il titolo finisce in un modo assurdo, secondo me prevedibile ad un certo punto, però comunque assolutamente interessante. Se amate la letteratura di questo tipo, se vi piace appunto anche il discorso linguistico, quindi l'analisi da questo punto di vista, anche se studiate lingue, lettere, secondo me può essere un titolo veramente perfetto. Ci spostiamo in questo caso invece in Giappone per il prossimo titolo e si tratta di un romanzo che io personalmente non ho molto amato, però credo che possa essere la perfetta lettura da spiaggia, da ombrellone, oppure se siete in viaggio sul treno. Io personalmente l'ho letto lì, quindi proprio esperienza perfetta secondo me e molto di intrattenimento, ma anche con un messaggio importante. Vi ripeto, a me non ha fatto impazzire, però comunque non è un titolo che boccio completamente e soprattutto so che piace a moltissime persone, quindi potrebbe essere effettivamente un romanzo perfetto per questo periodo. E sto parlando di Se i gatti scomparissero dal mondo di Kawamura Genki, o Genki, credo più Genki però. La storia racconta appunto di questo postino che praticamente non ha alcun amico, amico, amica, vive costantemente solo, non sa cosa fare effettivamente della sua vita, fatto eccezione per appunto il lavoro e per il suo gatto cavolo. Addirittura è incapace di stilare quella che è la sua lista delle dieci cose da fare prima di morire, perché appunto è un personaggio molto inadatto alla vita in un certo senso, una sorta di netto. Però la situazione cambia quando il diavolo in persona decide di mettere lo zampino in questa vita e offrirgli un patto. Ovviamente come ogni patto che si rispetti di questo tipo c'è qualcosa che il protagonista deve dare in cambio. Nello specifico lui scopre che sta per morire, il diavolo gli offre 24 ore di vita in più, però lui dovrà rinunciare a qualcosa che poi effettivamente scomparirà dalla terra. All'inizio il protagonista è assolutamente felice, d'accordo per questa cosa, perché si rende conto che di tante cose può fare effettivamente a meno. Quando poi il diavolo gli chiederà di rinunciare ai gatti, allora ci sarà un cambiamento di prospettiva. È un titolo che porta a riflettere molto su quelli che sono i ricordi, sulle cose realmente importanti, che mette veramente a fuoco le cose essenziali della vita. Il tema centrale è sicuramente quello della memoria, infatti il protagonista spesso va ritroso nella sua esistenza e si rende conto che effettivamente la sua non è una vita che non ha avuto assolutissimamente senso, anzi ci sono stati dei momenti, ci sono state delle persone, delle esperienze molto importanti. Quindi diciamo fa un po' il quadro della situazione, da qui non vi dico più cos'altro succede perché già è brevissimo, vi farei assolutamente spoiler, non è il caso secondo me. Ve lo consiglio appunto perché è una lettura come vi dicevo molto leggera, in termini sicuramente contenutistici ma anche appunto di strutture e di peso, però questa leggerezza non va assolutamente scambiata per superficialità. Altro titolo di non fiction, che sinceramente non so nemmeno come definirlo onestamente, perché non ha secondo me una definizione univoca, è La voglia dei Cazzi e altri fablie medievali tradotti da Alessandro Barbero. Io spero che si possa dire questa parola su YouTube perché altrimenti devo autocensurarmi, comunque non la dirò più. Il titolo si apre con una spiegazione di questo storico e scrittore italiano specializzato in medioevo che appunto racconta cosa sono effettivamente i fablie e quanto potessero essere scandalosi nel passato, ma soprattutto ciò su cui insiste Barbero è il fatto che probabilmente questi testi, assolutamente volgari ma naturalissimi, probabilmente sconvolgerebbero le persone ancora oggi. C'è un'analisi ovviamente anche linguistica perché i fabliei avevano una struttura ben precisa, una morale, venivano anche interpretati per un determinato tipo di pubblico e via dicendo. Quindi c'è un'analisi linguistica, contenutistica, storicistica e sociologica, antropologica, assolutamente interessante. Successivamente tutto il titolo si compone appunto di questi fablie che vengono tradotti nell'italiano corrente da Barbero e che sono assolutissimamente divertentissimi. Cioè io credo sia uno dei titoli con cui ho riso di più anche questo letto in un giorno, sono delle storie molto divertenti che ci consentono di vedere quanto ancora oggi certi termini, per quanto siano utilizzati nella quotidianità tra persone della stessa età, di generazioni diverse, facciano parte proprio dell'uso comune effettivamente. Se pronunciate in un certo contesto invece queste parole causano dello scandalo, sono ancora dei tabù e l'idea sostanziale, il messaggio, lo scopo di Barbero oltre a quello di darci una testimonianza storica, narrativa assolutamente importantissima è proprio quella di auspicare un futuro all'interno del quale questi termini effettivamente vengano un po' sdoganati. L'altro titolo che voglio consigliarvi è invece una raccolta di racconti molto particolare, io personalmente l'ho amato, è uno dei più belli che abbia letto l'anno scorso, soprattutto perché è stata una sorpresa. Personalmente non lo conoscevo, mi è stato regalato e me ne sono innamorata. Anche il titolo è molto esplicativo, secondo me è molto adatto al periodo ed è Un viaggio in atteso di Adolfo Bioi Casares. Credo di avervene anche già parlato sul canale l'anno scorso, non ne sono assolutamente sicura, però credo di sì. L'autore è appunto argentino e questo è un titolo molto rappresentativo della sua opera. Di fatti all'interno di queste storie molti sono gli elementi che ricordano la sua terra d'origine. La storia con la S maiuscola anche qui fa la sua entrata in scena, diventa motivo di azioni, di conseguenze di questi personaggi. Soprattutto è una raccolta di racconti, come vi dicevo, le cui storie cambiano anche per quanto concerne i protagonisti, nonostante in realtà sembrino tutte perfettamente collegate tra di loro. Alcune di queste storie sono davvero paradossali, al limite dell'assurdo, tutte portate avanti con uno spirito tragicomico che però secondo me è perfetto. Si parla proprio di viaggio perché tutti i personaggi si spostano in qualche modo con auto, treni, tram e via dicendo, ma tutti loro sono costantemente portati a questo intenso e continuo vagare. Secondo me è proprio perfetto anche per le ambientazioni che sono propriamente estive, perché possono appunto aiutarvi a percepire ancora meglio la stagione che stiamo vivendo e che andremo a vivere per i prossimi mesi. Ed è molto interessante perché in molti di questi racconti c'è proprio un incontro tra realtà e finzione, fantasia e il fantastico. Ed è interessante perché l'intento dell'autore è quello di dimostrare come la scrittura possa incarnare entrambe e possa effettivamente creare un ponte di collegamento tra la fantasia e la realtà. Tornando nella nostra penisola voglio consigliarvi un titolo anche qui che si compone di diversi racconti, di diverse storie e soprattutto che si basa sul principio e sul tema del viaggio. Sto parlando delle città invisibili di Italo Calvino. Un titolo secondo me eccezionale, strutturato in maniera eccellente. Cioè questo libro non va solo apprezzato per le storie e la scrittura che l'autore riesce a creare, a testere, ma proprio per l'architettura stessa del titolo. Sorprendente e incredibile. Ogni storia si apre e si chiude con il resoconto che Marco Polo fa all'imperatore dei Tartari riguardo alle città che ha visitato. Sono tutte città assolutamente irreali che hanno qualcosa di assurdo rispetto alla realtà per come la conosciamo noi. Secondo me ci sono molti elementi che richiamano anche i fumetti, soprattutto Windsor McKay. Quest'idea di alterare lo spazio, di rovesciare la realtà o almeno la realtà a cui siamo abituati, vengono assolutamente interpretate a livello narrativo e strutturale, come vi dicevo prima, da Calvino. È un viaggio nel viaggio nel viaggio, secondo me, perché è come se tutto fosse circolare. Anche questo fatto che appunto ogni storia inizia col racconto di Marco Polo, con questo resoconto e si conclude dello stesso modo, è perfetto. Titolo che insegna ad apprezzare la diversità, insegna ad apprezzare le possibilità che abbiamo oggi di conoscere un mondo che forse, anzi sicuramente, tuteliamo troppo poco. Infine, come ultimo titolo, voglio consigliarvi una commedia teatrale che personalmente ho amato. Credo che sia il titolo più divertente in assoluto che io abbia mai letto, e spero che lo stesso valga per voi sinceramente. Sto parlando dell'importanza di essere onesto di Oscar Wilde. Si parla di questo personaggio Ernesto Onesto, che rappresenta l'uomo che tutte le donne, tutte le dame dell'Inghilterra vittoriana vorrebbero effettivamente accaparrarsi e per aggiudicarselo sarebbero praticamente disposti a qualsiasi cosa. In realtà non è poi effettivamente così, cioè Ernesto Onesto non è così onesto. In realtà tutto quello che racconta è sostanzialmente una bugia. Questo capolavoro di Oscar Wilde ci dà uno scorcio su quelli che sono i paradossi, le contraddizioni, il bigottismo dell'aristocrazia inglese di quel determinato periodo. È un contesto all'interno del quale non importano i fatti ma quello che si dice. Non importa quale sia l'idea della singola persona. Un soggetto può dire effettivamente tutto quello che vuole, può fingere di avere qualsiasi bene, qualsiasi ricchezza o qualsiasi dote e in realtà assolutissimamente non c'è un fondo di verità in tutto quello che si sta raccontando. Ma comunque questa persona verrà ritenuta importante agli occhi praticamente di chiunque perché c'è proprio questo modo di muoversi proprio in gregge all'interno di tale contesto. Si creano così praticamente queste situazioni molto comiche, le incomprensioni, momenti assolutamente divertenti, comici, assurdi. Ci sono tantissime battute che si basano proprio sul discorso dell'onestà, della bugia, il calcolo, la premeditazione e via dicendo. Il titolo è stato definito una commedia frivola per persone serie. Quindi secondo me se vi ritenete delle persone serie che però sanno apprezzare la frivolezza, sanno apprezzare la comicità, la leggerezza, questo secondo me è il titolo perfetto. Bene, detto questo, visto che la luce ci sta anche abbandonando, io penso sia proprio il momento di salutarvi. Spero che questi consigli possano esservi utili, fatemi sapere se recupererete qualcosa, se avete dei titoli brevi da consigliarmi, come sempre vi aspetto nei commenti. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!